Unboxing di Sony Smartwatch 2, il nuovo orologio per Android di casa Sony Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, oggi apriamo la confezione di Sony Smartwatch 2 Si tratta del nuovo smartwatch di casa Sony, Smartwatch 2, ma in realtà è il terzo orologio smart Qualche indicazione, andiamo a vedere cosa ci propone la confezione per darci una panoramica un pochino più ampia Connettività NFC, quindi per collegare al proprio smartphone, poi la connessione rimarrà tramite Bluetooth Micro USB per ricaricarlo, resistente a polvere acqua IP57, la batteria dura 3-4 giorni, ottimizzato per Android Serve a ricevere notifiche in modo discreto e anche a interagire con lo smartphone Per esempio con le applicazioni sportive o per esempio sempre il play musicale Questo disegno ci mostra come all'interno della confezione sarà presente solo l'orologio e il cavo per la ricarica Abbiamo rimosso quasi Quasi, scusate ma Gli unboxing noi li facciamo davvero per la prima volta davanti a voi Questo è quello che nessun nerd si augurerebbe mai Ok, ok Confezione molto bella, c'è da dire Qui dentro l'orologio lo mettiamo qua E qua sotto, presumibilmente Abbiamo il cavo USB-Micro USB, molto piccolo E proprio sul fondo, se riusciamo a estrarre Abbiamo la manualistica Abbiamo un activation code anche per Runtastic Pro Questo è sicuramente un regalo molto gradito Questo è lo smartwatch Lo recensiremo nei prossimi giorni su androidworld.it Quindi potete cogliere questa occasione Andate sul forum androidworld.it Slash forum Farci domande su questo smartwatch 2 di Sony E noi risponderemo appunto nella recensione completa Un saluto a tutti gli amici di androidworld.it Da Emanuele Cisotti Grazie a tutti